Padre Paolo Dall'Oglio sarebbe vivo e fino a due settimane fa era tenuto in un carcere gestito dalle milizie jihadiste dello Stato Islamico a Raqqa, città roccaforte dell'organizzazione jihadista in Siria. A riferirlo è Mustafa Bali, responsabile comunicazione delle unità a difesa del popolo kurdo nella città kurda siriana Kobani. Padre Dall'Oglio era scomparso il 29 luglio del 2013 in Siria. A un anno dalla scomparsa, la famiglia del gesuita italiano aveva rivolto un appello ai rapitori. Vorremmo riabbracciarlo, ma siamo anche pronti a piangerlo, avevano detto i familiari. Lo scorso 3 novembre i jihadisti dell'ISIS avevano liberato almeno 93 civili kurdi che erano stati rapiti a febbraio in Siria, mentre lasciavano Kobani per andare nel Kurdistan iracheno, secondo quanto riferito dall'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria. Interpellato sulla questione, il direttore della sala stampa della Santa Sede, padre Federico Lombardi, ha affermato di non avere notizie in merito a Dall'Oglio, senza confermare né smentire.